Ragazzi, oggi Michael aveva l'esame di terza Guardatelo laggiù come sta correndo, io ero in bicicletta Cioè, sono in bicicletta Sto guidando senza mani E' appena uscito dall'esame Oh, Michael, ma sei promosso all'esame? Com'è, sì, sì Ecco, manda in culo tutti come sempre Io sono venuto qui in bicicletta, abbiamo fatto una corsa da scuola fino a qui Cioè, lui ha fatto una corsa, io ero in bicicletta E' la mia bella bici Sei bocciato? No, è promosso L'anno prossimo viene a scuola con me Però io sono in seconda perché lui è bocciato in seconda perché è una cabra Quindi Io e lui ci vediamo Ci vediamo l'anno prossimo Sta facendo un video anche lui Già terminato, onbecile Ok, ci vediamo l'anno prossimo, allora Prego, prego, entri quella sua bicicletta E' arrivata la Tu capirò, si va capirò Ma che capirò? Ci vi vale, Valentino Rossi Dai, 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 vai, su, vale, su, vale, su, vale Oh, coca, aspetta Su, vale, su, vale Ma che così? Ma io sono andato senza mani, oh, stupido Eh? Sono andato senza mani, guarda Sì, guarda E ora E ora E ora Grazie a tutti.